Grazie Presidente. Con riferimento all'articolo 3,5 e 6,3 del Trattato sull'Unione Europea e all'articolo 158 del nostro regolamento, volevo informare i colleghi della gravissima situazione che Patrick George Zakisia, uno studente egiziano che da settembre, grazie a Erasmus Mundus, frequenta a Bologna il Master Gemma sugli studi di genere, sta in questo momento attraversando. Un ricercatore, un attivista che ha dedicato la sua vita a diritti uguaglianza, solidarietà e a criticare la negazione dei diritti umani nel suo Paese. Atterrato al Cairo venerdì notte per visitare la famiglia, è scomparso per riapparire il giorno successivo a 120 chilometri dalla capitale, con evidenti segni di maltrattamenti fisici e violenze, in un'aula della Procura Generale Egiziana, arrestato e accusato di aver criticato il Governo tramite i social media. Patrick ha sobrito lo stesso trattamento di Giulio Reggeni, caso per il quale il giovane egiziano si è tra l'altro speso. Cari colleghi, invito tutte le istituzioni europee e la delegazione dell'Unione Europea ad agire e seguire questo caso con la massima attenzione e chiedo di aggiungere un dibattito.